Ora per finire vediamo come ricaricare le cripto o i soldi, anzi per i soldi faccio una puntata a parte. Allora caricare le cripto, molto semplice come qualsiasi altro portafoglio, bitcoin faccio top up per ricaricare questo portafoglio su Nexo. Withdraw per prelevare. Ricordo che per chi è platinum, quindi il massimo dei livelli, ha fino a 5 prelievi gratuiti al mese. Gratuiti significa totalmente gratuiti, nessuna fee, neanche di mining, niente, zero. Comunque voglio ricaricare bitcoin in questo caso, top up, ecco qua il codice del mio portafoglio. Posso copiarlo se lo sto facendo da pc e incollarlo dove voglio, oppure semplicemente se lo faccio a cellulare utilizzare il mio QR code. Dove ci sono, allora, alcuni che chiedono la memo, quindi il codice memo, in questo caso per esempio Stellar, stessa cosa, copierò il mio indirizzo e poi andrò a copiare anche la memo e inserirla nel suo portafoglio da cui sto prelevando per portare qui su Nexo. Posso in ogni caso comunque utilizzare anche qui la scansione, molto più rapida, molto più veloce. Consiglio di utilizzare Stellar per tutte le transazioni, anche se voglio trasferire qualche cripto particolare che non è il dollaro, il tether, lo USDT. Io consiglio di venderlo, passarlo su Stellar, cioè venderlo in cambio di Stellar, trasferirlo qua sopra e poi rivenderlo in quello che vogliamo. Perché? Perché Stellar ha delle commissioni praticamente nulle, ridicole. Ad esempio da Qcoin mi pare si aggiri intorno a un centesimo la transazione e su Binance addirittura ancora meno di un centesimo la transazione. Quindi praticamente non riusciamo a spostare uno a uno quella che è la nostra ricchezza, senza costi di deposito e di prelievo. E ancora vengono transate nel giro di neanche un minuto, quindi sono praticamente subito disponibili di Stellar. Ottima cripto, soprattutto per questa velocità di esecuzione e economicità. Quindi consiglio di utilizzare proprio queste Stellar per le transazioni. Da e verso questo portale. Visto che questo video per adesso sono solo tre minuti, faccio che mettere anche le fiat. Per le fiat il discorso è un pochino più complesso. In euro, se voglio ricaricare, cosa devo fare? Faccio un bonifico normale tradizionale SEPA, quindi fattibile da qualsiasi banca. Alla tariffa della vostra banca. Nexo non ha alcuna fee, quindi nessun tipo di costo. La vostra banca dipende. Ad esempio, le banche che utilizzo io non hanno costi. Vivid, per esempio, che trovate anche in questo portale, non ha alcun tipo di costo per fare i bonifici. Quindi per quello utilizzo Vivid come portafoglio, come IBAN, come conto in banca vero e proprio. L'unica cosa per adesso è il minimo. Si possono caricare in euro minimo 1000 euro. Per quanto riguarda le cripto non c'è alcun limite minimo. Si può transare anche un solo euro, nessun problema. Per quanto riguarda gli euro invece ci vuole un deposito minimo di 1000 euro. Come si fa? Allora, si inserisce nel bonifico normale. Mi raccomando, questo è molto importante, il nome del beneficiario, Nexo, scritto in questo modo. L'IBAN del conto, che è questo, che è un IBAN unico. Nexo non ha creato un IBAN per ogni singolo cliente, ma ne ha uno suo unico, che è questo qua. E quindi nel momento in cui io voglio prelevare, invio a Nexo. Nexo, ecco perché è fondamentale, ripeto, fondamentale, mettere nella causale del bonifico la tua referenza, cioè il tuo codice, che è questo qui. Questo qui è il mio in questo caso. A questo punto cosa succede? Inviamo i soldi tramite bonifico dai nostri conti a Nexo. Nexo riceve un pagamento e vede, questo codice qui mi ha inviato 1000 euro. Bene, prende quei 1000 euro e mi li versa sul mio portafoglio, qua, virtuale. Ok, questo è un modo per Nexo, per risparmiare chiaramente, non avere 1000 conti aperti reali, fiat, quindi in euro, dollari e sterline, ma a dare a tutti la possibilità di detenere dollari, euro, sterline in modo semplice e veloce. E quindi questo è il come si fa un bonifico, come si ricaricano sia cripto che monete fiat su Nexo. Grazie mille. Grazie mille.